come va e bentornati sul mio canale con questo breve video vi informo che è presente nella sezione abbonamenti del mio canale la sezione abbonamenti la potete trovare qui sotto vicino al tasto iscriviti cliccando sul tasto abbonati all'interno di quella sezione abbonamenti potete trovare questo video dove vi parlo dell'assegno unico universale novità per l'applicazione ims mobile vi dico brevemente vi faccio solo un accenno vi dico che l'assegno unico universale per i figli a carico è un sostegno economico ai nuclei familiari attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno d'età e senza limiti di età per i figli disabili all'interno del video che trovate appunto nella sezione abbonamenti vi spiego anche come installare l'applicazione come utilizzarla e cosa si può fare ecco questo è molto importante quindi se volete vederlo basta cliccare sulla sezione abbonamenti con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube vi aspetto ciao